e ciao a tutti ragazzi sono l'unico e solo e oggi siamo finalmente tornati su TheBadWars per il momento Bluestacks ha deciso di dare ciocchi e quindi né Brawl Stars né Clash Royale mi funzionano o zero nel senso provo a toccare un pulsante e non me lo prende quindi devo per il momento non riuscivo a fare video né su Clash Royale né su Brawl Stars e molto probabilmente la live di domani, domani martedì cioè io sto registrando domenica vabbè dico domani perché voi i video lo vedete domani e niente quindi probabilmente potrebbe anche saltare la live e mi dispiacerebbe se succedesse ma non posso fare altrimenti per il momento l'unica cosa che mi funziona è Minecraft su questo computer è Slenderman anche però Slenderman c'è una volta che c'ho fatto un episodio, un episodio, un episodio, un episodio non so più come fa, cioè cosa faccio mi porto un altro sto tentando anche un po' di trovare qualcosa di diverso no? per portare più contenuti senza portare Clash Royale Brawl Stars visto che non posso li stanno buttando via il ferro li ho prendo tutti sono già coperto? lo stanno andando a coprire? no allora ne vado a coprire io ci vediamo quando ho coperto il letto ok per il momento ho fatto tipo una roba un po' provvisoria tipo questa che è tipo handstone sotto della clay che non è tipo niente però è già qualcosa nel senso che l'handstone comunque è difficile da spaccare la clay pure quindi direi che... cioè come roba ci siamo c'ho una skin troppo bella perchè hanno fatto una scala? non potremmo fare un ponte normale come tutti? ma devono fare scale questi? ok sono equipaggiato tipo in una maniera decente e... adesso dovrei tipo andare al centro no? fare le solite cose non ho l'archetto il che potrebbe essere un bel problema perchè con una spada io non ci faccio mai una sega però magari invece divento tipo un pro player stasera con la spada e inizio a spaccare tutto cosa un po' dura ma ah ok forse ho capito perchè hanno fatto la scala così vanno diretti al centro non c'è qualcuno con l'arco? non è vero che cazzo? ma ragazzi ma che cazzo combinano questi? no raga sono veramente dei incuglioniti questi Cioè, non sanno timmare E... E fanno delle cagate fotoniche Io mi prendo ancora un po' di materiali E poi, tipo, andiamo a spaccare il lato di blu Devo farmi anche un piccone e un'ascia Non è che potete fare, tipo, una protection Una sharpness, no, eh? Dovete spendere tutto nelle trappole Che? Ma tanto, io ci metto le trappole Così, vedrai che nessuno Può riuscire più a farmi A toccarmi la base Cioè, no Non funziona così, raga Dammi un altro diamante, tu stronzo Perché stiamo camperando? I tipi di amanti li mettono nella chest comune Così, se qualcun altro ce l'ha messi Magari possono fare degli upgrade un po' più Forti Confetti cake Ma chi è sto qua? C'ha l'arco, c'ha l'arco Il problema è che io sono sul ponte Perché l'arco ce l'ho anch'io, però No, no, no Devo SCAPPARE Come è possibile? Dai, ma non ci credo Ma toglie così tanto l'arco, tra l'altro Cioè, toglie un bordello l'arco Eh, zio Noi i diamanti come li prendiamo? Oh, ma Gli ho detto Fai una porta, eh Gli ho detto Guarda sto stronzo Se l'ha fatta la porta Tu guarda Se io mi devo trovare in tingue Con sta gente Possiamo partire Per una nuova avventura Ho preso, l'ho preso Lo riprendo? No No, no, c'è stato a cazzissimo La feccia L'ho preso, l'ho preso Devo riuscire a prenderlo di nuovo Cosa? Sta spammando L'ho preso, l'ho preso Sì E guarda che si fanno le difese Perché han capito che c'ho la mira Guarda che continua a prenderli Non sanno più cosa fare Si campano dietro al muro Che bellezza Perché tengo così distante il microfono Che se no non mi si sente Cioè, già che non c'ho il microfono della madonna Poi si inizia tra l'altro A tenerlo Si inizia a tenerlo distante E' finita Ma questi tipo puntano la loro La tattica da difesa Moralia Semplicemente uscendo E non E sapendo di non rientrare vivi Non l'ho capito Non l'ho capita sta cosa Cioè, loro pensano Che non rientranno vivi Quindi non fanno neanche La porta d'accesso Io continuo a prendere i diamanti Magari Se sto shiftato Non mi vedono E quando arrivano Tipo Spadabam Ma ragazzi Ci riesco è epico Tanto sto shiftato Per prendere i diamanti Poi S'arrivano tipo tanta roba Ma non stanno più venendo Io al centro non ci vado Cazzo sono vasochista Che vado al centro E mi faccio ammazzare Cioè, già mi serve la sharpness È vero Con i diamanti che c'ho Posso fare la sharpness Perché non ci ho pensato prima Così mi faccio la sharpness Alla spada E li picchio Cioè, in realtà Non mi serviva L'ultimo diamantino Però Aggiusto di presfizio personale Visto che ho aspettato Mezz'ora Almeno di prenderlo Tutto potenziato E soprattutto Lì è che compro L'archetto Quello potenziato Che prima mi stavano Spaccando il culo Con quell'arco Adesso glielo spacco io il culo Vediamo che è più forte Adesso ve lo dimostro io Chi cazzo è che comando qua Oh, questi qua Vogliono venire a farsi Fighi Nella nostra base Ma oh Ma dove cazzo Pensati di essere Ma vi veniamo a spaccare Tutto qua Gesù Che ti prendessi In gloria C'è uno che è appena morto Non so come Mi ha dato Sono arrivato a mettere Tutte le cose Forse perché l'ho beccato prima Cioè Quindi adesso posso tipo Farmi la corazza In diamante Questo come stai dicendo Dove cazzo è Sì Me la posso fare Ma che botte di culo Raga Non ci credo Raga Vedete il bello Di camperare E tenersi l'arco Che succedono Ste cose magiche Tu non sai Perché succedono Ma succedono Cazzo E quando succedono Sono tipo Delle figaggini Assurde La spada Ok No raga Ma che cazzo è successo Cioè Tipo Un bug Perché tipo Lui l'ho colpito prima Il gioco Fa in modo Che Se lo colpisco prima Anche se magari Lui cade Il gioco dice Che l'ho colpito io Anche se in realtà Magari sono morto Oppure stavo dormendo Cioè raga Che bello No no occhio 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 Sei pazzo No lo piglio Non lo piglio Non lo prenderò mai Ok E lui è morto Quell'altro là Mi sta shuttando Con i fetch Faccio così Semplice No raga Ho fatto una kill Con Con la spada Ma quando mai Ho che faccio una kill Con la spada Comunque raga Bisognerebbe tipo Avere delle enderpearl Perché Se no Non riesco Non riesco Assolutamente Ad uscire Da questa base Allora Gli smeraldi Sono miei Quindi me li tengo io Il glitch No raga Che bello Che bello Che succedono Ste cose E' bello minecraft Perché succedono Ste cose Poi È pieno Di hacker Ma Quando ci sono Gli hacker Che succedono Ste cose Quello Vole ucciderli Ma tra l'altro No ne eravamo tre Adesso Vedo soltanto Questo Come compagno Quanto ha la spada In diamante Quanto costa? Oh Quattro smeraldi E di quanto ho? Quattro smeraldi Quasi quasi direi che Camperiamo Gli faccio la spada In diamante Aspettiamo Tipo la rottura Dei letti E questa Bedward La vinciamo Così Perché poi Verranno a picchiarci Noi ovviamente Non li lasciamo Cioè li lasciamo Entrare in base E poi li sfondiamo Magari In culo Che belle Le tattiche Del unico solo Ok Emerald maxed Ancora cinque minuti E poi riusciamo E poi c'è La distruzione dei letti Se non mi ricordo male Quindi tipo In teoria Dovrei essere A Verga a scarfagiolo Per la distruzione dei letti Cioè Non ci dovrebbe mettere tanto Per la distruzione dei letti Speriamo Dove sono? Guarda questo Io tipo salgo dal letto Che se fosse invisibile Almeno Lo vedo Che cosa? Che è che ha scoperto il letto? Che è che ha scoperto il letto? Ma sono dei pazzi Ah Lui è lì Se non vede che sono dal letto Lo posso picchiare Mentre sale Ma ma C'ho tutto in diamante Ma Cazzo lo picchio Mentre sale C'ho tutto in diamante Com'è possibile? Ti picchio Ti picchio No Ci ha rotto il letto No raga Questo è un problema Questo è un problema L'altro è sotto L'altro è sotto Io c'è tipo Un'ascia In pietra Come lo batto Non ho niente Non posso manco andare dal Lì dall'officina Sta shiftato Per non farsi vedere No 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 Sta shiftato Bastardo Così non sappiamo dov'è Lo picchio 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 No Ma ha vecchiato lui Questa partita è tutta Ho fatto una partita Interamente da camper Noi ci vediamo Nel prossimo video E ciao a tutti